Ci saranno anche Mesagni e il parco di Muro Tenente nel reportage che l'edizione americana del National Geographic dedicherà alla Via Appia. La più longeva e prestigiosa rivista mondiale di viaggi, storie e turismo, fondata nel 1888 e tradotta in 31 lingue diverse, ha inviato per questo in Italia una delle sue firme più prestigiose, la giornalista Nina Stroklich, che ha visitato il parco archeologico e intervistato il sindaco di Mesagni e Tony Matarrelli, il quale ha indicato le tappe principali del lungo percorso di evoluzione culturale che Mesagni ha compiuto negli ultimi 30 anni sino alla recente candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024. E a proposito di personalità internazionali che sostengono Mesagni verso questo titolo ambizioso, va registrata l'adesione di Anatoly Karpov, il maestro russo per 16 volte campione mondiale di scacchi, che con una lettera inviata al sindaco Matarrelli ha sottolineato l'impegno di Mesagne nel creare eventi per gli appassionati di scacchi e scacchieri viventi e più in generale l'attenzione della città, per temi fondamentali quali la coesione sociale, la cittadinanza attiva, l'integrazione e l'attenzione alle opportunità da offrire ai giovani. Il tutto mentre il lavoro di partecipazione per la realizzazione del dossier che dovrà essere consegnato al Ministero della Cultura entro il 19 ottobre procede spedito e la città si concede in tutta la sua bellezza aprendo le porte del castello, dei musei, del suggestivo borgo dei presepi e delle mostre. In occasione dell'Appiadei ciclisti e podisti provenienti da tutta la Puglia sono partiti dal centro cittadino e hanno percorso le vie del centro sino a raggiungere il parco archeologico di Muro Tenente, tra loro anche un atletico 89enne proveniente da Martina Franca e un promettente campioncino di soli 10 anni. In serata un emozionante videomapping in piazza Orsini del Balzo che ha regalato vita e tridimensionalità alla chiesa di Sant'Anna e il castello Normanno Svevo con il sottofondo musicale del gruppo locale Cromofobia e le incursioni di Pietro Rosato al sax e di Ida Pagliarulo al violino elettrico.